Gli Inter Club Riccardo Ferri di Caltanissetta, Angelo e Massimo Moratti di Favara, il Cucu di Mazzarino e Moratti di San Biagio Platani hanno organizzato un torneo dal titolo Inter NOS Pro EIS allo scopo di raccogliere una somma di denaro da destinare in beneficenza. Alla fine del torneo sono stati raccolti 400 euro da donare alla cooperativa Etnos. I fondi raccolti verranno destinati alla comunità Mamma Carolina di Contrada Firrio a Caltanissetta che si occupa del reinserimento dei giovani della comunità penale.